Vernazza, classificato tra i 100 borghi più belli d'Italia, è il paese arroccato su una gruppe. Si presenta maestoso e affascinante. L'habitato è costituito da case separate tra loro da ripide scale. Le case colorate circondano il porticciolo turistico con i suoi vicoli magici e misteriosi. Ha un'antica e lunga tradizione marinara. Clasificato tra i 100 borghi più belli d'Italia, si encuentra sobre un acantilato rocoso encajato nel mar, majestuoso e affascinante. La zona habitata sta formata per casas separati tra loro da ripide scale. Le case colorate circondano il portico. Con i suoi vicini magici e misteriosi, ha un'antica e lunga tradizione marinara. Ranked among the 100 most beautiful villages in Italy. It is located on a rocky cliff embedded in the sea, majestic and fascinating. The inhabited area is made up of houses separated from each other by steep stairs. The colorful houses surround the tourist port, with its magical and mysterious alleys, it has an ancient and long seafaring tradition. Eventi e festività, la festa di Santa Margarita di Antioca, la festa dei pirati, il Natale Subacchio. Entre los eventos e actividades, Bernazza tiene la fiesta di Santa Margarita di Antioca, la fiesta dei pirati, la Navidad Submarina. Events and activities, the feast of Santa Margarita di Antioca, the Pirates Festival, with landing simulations. Underwater Christmas. Estamos vivendo il percorso, il sentiero Vernazza verso Monte Rosso. I principali sentieri intorno a Vernazza sono Vernazza Monterosso, Vernazza Corniglia, Vernazza Santuario di Reggio. The main trails around Vernazza are Vernazza, Matarazzo, Vernazza, Coriglia and Vernazza Sanctuary of Reggio. Avernazza水 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Gena di simpatia e buon servizio, haz una parada nel ristorante La Torre. Te recibirán come te mereces. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Un ringraziamento a Camera Fontavecchia che ci ha ospitato. Posizione ottimale. Sarete accolti con cordialità. Grazie a Camera Fontavecchia che ci ha ospitato. Grazie a Camera Fontavecchia che ci ha ospitato. Potrete lasciare la vostra auto presso i parcheggi presenti in paese. Troverete un servizio navetta veramente confortevole. Puedes dejar su coche in los parking de la localidad. Encontrarà un servizio di transporte muy cómodo. Vernazza, un gioiello tra mare e roccia. Ma ci fermiamo. Lasciamo alla vostra curiosità e piacere scoprire le sue altre bellezze. Vernazza, una gioia entre il mar e la roccia. Non ci fermiamo qui. Dejiamo a vostra curiosità e piacere scoprire le sue altre bellezze. Vernazza, una gioia entre il mar e la roccia. Ma ci fermiamo qui. Lasciamo a vostra curiosità e piacere scoprire le sue altre bellezze. Siamo in Vernazza. In quel punto di Vernazza non sappiamo. Ma siamo di fronte al sentiero che va a Corniglia. A Corniglia. Vediamo. Continuando. Allora viene con noi al forno di Vernazza. Alla fiera. Vediamo la vista bellissima. Questa. Questa è Burgo. E' la Cinco. Eccoci alla conclusione. E se desiderate seguiteci. Iscrivetevi al nostro canale. Vi consiglieremo sicuramente altre città, paesi, borghi. E se desiderate una nostra realizzazione, se volete aiutarci a far crescere sempre di più un turismo di valore, contattateci. Realizzeremo con voi video spettacolari, anche eseguiti con drone quando possibile. A presto. A presto.